e andiamo immediatamente con Miss Italia andiamo a vedere i fianchi delle Miss, dai e si andiamo a vedere Miss Italia nel mondo e i mister io guardo i mister eh lo so, lo so allora andiamo a vedere col balletto ediziamo immediatamente vi faremo vedere la vincitrice e il vincitore sentiamo vai col balletto guarda qua che voce hai visto che voce potente? mamma mia bravissima questa campagna e vai col balletto guarda dove vado io seguo, seguo le scarpe ovviamente naturalmente sì vuoi vedere le scarpe tu tu lo sai, no è vero Doriana? certo eh sì vado possiamo mettere su un negozio di scarpe benissimo però ti posso dire una cosa questa settimana ho detto ci siamo eh sì beh ma questa settimana ho detto guarda 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 ti faccio vedere guarda ci facciamo intanto la speaker di TV Capodistria guarda gli uomini questa volta ho detto bene ho detto voglio farmi perdonare dalle donne e facciamo vedere un attimo i mister intanto ti faccio vedere alcune 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 miss però la prevalenza sarà i mister eh finalmente bene eccoci qua andiamo a vedere intanto le miss tu dati un'occhiattina sì ti dico chi potrebbe vincere la papabile ecco tu mi dici potrebbe essere quella o lui anche o lui bene andiamo con questa bellissima biota eccola qua eccoci adesso te li faccio vedere guardalo mi somiglia io io con le mie tartarughe come hai detto tu l'altra settimana tu ce l'hai la tartaruga Canobi certo solo che si è rivolta eh da peo io a un certo punto si ribaltano queste tartarughe guarda i mister ma basta averle dai eh certo te li faccio vedere tutti i mister questa settimana ma sono tutti tutti belli hai visto guardalo che belli eh anche questo questo potrebbe vincere guarda che sguardo felino hai visto sì eccolo qua dai un'occhiata anche per sapere quale sarà il vincitore quello di prima quello di prima va bene e questo che ha la coperta anche di estate perché si è coperto sto ragazzo ma non lo so anche questo eh guarda 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 anche questo potrebbe vincere questo ingellato guarda che ingellato guarda qua invece c'è una cantante c'è una musica un po' leggerina la faccio sentire giusto un secondo questa cantante questo lucro aggressivo eh sì bella è una musica un po' forte questa eh vero o no? sì diciamo sopra le ricche ecco eccole e partiamo immediatamente con la selezione perché a me sono state certe cinque sì e io te le faccio vedere tutte e cinque dai che io fra queste cinque vediamo se indovino vediamo intanto una è questa la mora vediamo un po' una è intanto questa andiamo a vedere intanto ti faccio vedere i mascoli questo potrebbe questo potrebbe vincere siete contente donne che questa volta vi ho contentato finalmente facciamoci sentire donne adesso qua c'è quello di amici ah è vero però sai chi è il nome? il nome mi sfugge adesso mi cogli sembra impreparata tu con Roby però eh dimmi però forse lui ha aiutato il ragazzo che ha vinto Scano che ha vinto il festival di Sanremo l'anno scorso esatto brava hanno scritto insieme la canzone sentiamo il suo portafortuna questo è il suo portafortuna per esempio i pistegni dei qui ne sono le mani ciao 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. A me mi piaceva quella lì, ti dirò. Sì, ti piaceva lei. Però non ti dico ancora chi potrebbe vincere. Questa è un'altra selezionata? Vai, certo, questo è sempre un altro selezionato. Attenzione. Eccola qua. La misco i capelli corti. E questa è anche bellina. Sì, però non è male. Ma perché non ne regano mai le misco i capelli corti? Ma che ne so, perché... Eccoli qua e vai con la premiazione. Dai, dai, la bionda, la bionda. La bionda, niente. Vabbè. Ho perso? Hai perso. Allora, salutiamo il direttore, innanzitutto, della Hit, perché a parte che è un bel personaggio. No, questa è arrivata terza. Questa è arrivata seconda. Sì. Dopo vedremo il direttore della Hit con la dolcezza la bionda. Io li metterei come vincitori quei due lì. Una bellissima coppia. Ma attenzione, ecco la vincitrice. Ah, lei. Ti sei fregata. Guarda. E che volevo cambiare, sempre more, sempre more. Esatto, fammi salutare la mamma, prima di tutto. La mamma di Doriano, un grande salutone. Bella come il sole dalla Puglia a Gorizia. Con furore. Dalla Puglia con furore. Una potenza, ragazzi. Insieme alle orecchiette e la focaccia. Eccola qua. Bene, guarda la vincitrice. Bella, bella, bella. Bella come il sole. Tutte le miss. Ecco, adesso andiamo a vedere, dopo gli dirò anche il direttore. Ecco qua, eccolo. Lui ha vinto. E uno, questo è Mister e poi un altro nome. è Mister Slovenia. Mister, ecco, sono due i vincitori. Mister Slovenia e Mister Slovenia. Sì, sì, me l'ha detto, dopo lo diciamo. Ecco qua, i vincitori. Ecco, adesso tu guarda questa ragazzona grande, alta, alta, come solo un metro e novanta questa. La ragazza bionda? No, quella che premia, ecco, la vedi quella di me. Eh, questa che premia, sì. Adesso vedi che c'è il saluto insieme? Fai teggiare. E vince, eravamo convinti noi. Senti, cosa dici di questa bella vittoria? Lo dici in sloveno, eh? Parla forte. Chiarissimo. Ha detto che è veramente fenomenale. Adesso dove andrai con questa vittoria? Gremo, fai un bel saluto agli amici di Doricatio. Mi sa che l'ultimo non l'ho capita bene, eh? Ah, non chiedere a me. Ci ha dato un bacio, un bel bacione. A me basta questo. Ascolta, ascolta lei. Di capo distri a questo gioiello. Dove ci manda un bacio? Mio Dio a me, grazie. Prendilo, prendilo tu. Guarda, guarda, guarda che alta. Mi guardava dall'alto il bacio. È bella, eh? È bellissima. Adesso tu vedrai il direttore. Sì. Ecco, ci ha dato un bacio. Fai attenzione. Mr. Slovenia. Mr. Slovenia. Mr. Universe. E Mr. Universe. Capita, che titoli importanti. No, ma probabilmente sarà selezionato per Mr. Universe. Sì, per i diversi concorsi. Ti piace questi due? Sì, sì, sì. Quello Moro. Eccolo lì, quello Moro. E' quello Moro. E' biondo, no, biondo l'ho già sposato. Oh, vado a salutare questa troupe di vita e saluta questi gioielli. Gli ho detto, no? E da domani vengo a lavorare da voi. E loro mi fanno, ma tu già lavoravi con noi. Ah, non ti vogliamo più. No, ha detto di sì che mi vogliono. Vite, salutiamo queste due dolcezze. Ma cosa ti lamenti allora? Vedi che ti vogliono queste due dolcezze. Sì, ha detto che avevo un programma veramente più grande. Ascolta adesso. Sì. Sengono sempre i grandi. Questo è il direttore della IT. Che occhi che ha questo signore. Fa buon vino. Va bene, saluti tutti gli amici di Dorista TV. Questo è un grande cestista, eh. Sì? Vabbè, si vede, alzio. Alzio e saluti. Speriamo che ci vediamo, spero. Senz'altro. Ma come no? Salutiamo il grande cestista. Guarda, io nomino la coppia più bella della Slovenia. Sì, è vero. Stanno bene insieme. Guarda, hai visto o no? E invece tanta gente ha detto, vai a fare un bel salutone a quella col vestito blu. Blu. Guarda, questa donna ha detto, io voglio con questi due bei gioielli. E chi non vorrebbe? Eh, signora. Eh, contenta lei. Adesso vado da... Guarda. Ascolta, eh. Per Gorizia TV. Bellissima. Però senti la cosa, però bisogna, con te, eh. Ma lei è una massa, eh. Ascolta, eh. Bisogna prendere la scala per vederti. No, lei ha capito perché è slovena. Dopo, dopo ha capito, però. Lei ha detto, bisogna prendere la scala per venerti a vedere a te, no? Ma lei era una miss? Sì. No, una miss, una così. Ascolta adesso, il nome, eh. Ascolta, scolta. Il nome, il nome, il nome, il nome, il nome, l'inglese non entra, no? Ecco. Ciao, Caterina. Caterina. E tu? Ah, ci picchia. Ah, ci picchia. Ok. Ah, ci picchia. Come dice il perfetto? Carmen. Carmen. Guardali, salutiamo. Che belle queste ragazze. E chiudiamo con questo bel servizio. Hai visto? È passato tutto. Gorizia TV. Sì, alla fine però chiudiamo sempre con le tue donzelle. Eh. Mai che chiudessimo con qualche bel macio. Ma io ero due bei maci. Sì, dai, mi hai fatto contenta per oggi. Bene. Ole. Allora salutiamo tutta l'Italia. Un bel saluto dal Robi che lavora sempre gratis per tutti. Un bacio e manderò servizi per tutta l'Italia. Gratis. Ma sì, dai. Un bacio da Robi. E dalla vostra Doriana che non seguirà Robi. A gratis.